Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, ispiratevi su la gestione, abbiamo un problema tecnico, abbiamo un problema tecnico, in quattro anno consecutivo, invece 4ta годina, stiamo presentando un progetto Marco Spagliore Italiano, quindi vi è lo sport promozionale, e ora possiamo presentare un progetto che vi presenta in questo progetto.